E' stato approvato in giunta il progetto definitivo per la riqualificazione di via Mazzini a Via Reggio, un max intervento da circa 2 milioni di euro che cambierà il volto della centralissima strada che collega il mare alla stazione. Il via libera nella seduta del 23 novembre è l'ultimo passaggio formale per il piano che sarà accantilato ad inizio anno per una durata complessiva di 14 mesi di lavori realizzati a lotti. Il progetto, presentato pubblicamente la scorsa settimana dall'assessore lavori pubblici Federico Pierucci, prevede marciapiedi più ampi, ciclopista, carreggiata dunque ristretta, nuova illuminazione, arredo urbano di pregio. Il restyling approvato ha raccolto pareri discordanti fra i commercianti e gli artigiani di via Mazzini, fra chi apprezza e chi si dice preoccupato per la riduzione di posti auto, posizione contraria da parte della Lega. Il restringimento di via Mazzini è una pessima idea che la Lega boccia, soprattutto per l'atteggiamento dell'amministrazione del Ghingalo nei confronti degli abitanti e dei commercianti che non sono stati assolutamente interpellati. Non è stata sicuramente digerita l'esperienza di via Garibaldi, che è già stata distrutta rendendola una strada stretta. Rendere anche via Mazzini un viottolo che porta alla stazione peggiora la situazione, ma soprattutto dimostra la mancanza di rispetto nei confronti dei commercianti e degli abitanti che non sono stati interpellati. Per la Lega via Mazzini come strada stretta viene bocciata assolutamente.